Il risparmio di oltre 300.000 euro l'anno di cui questa amministrazione si vanta verrà volatilizzato in tempi brevi con la nomina di un nuovo componente nello staff del sindaco e del settimo ossessore. È il pensiero dell'opposizione fanese che, pronta a dar battaglia dopo aver letto sulla stampa locale che il vice sindaco Stefano Marchegiani, attuale segretario del PD, apre la strada a questa possibilità. A questo proposito i consiglieri di minoranza non solo sono disposti a proporre una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino Massimo Seri ma ricordano anche l'approvazione, avvenuta mesi fa, di una mozione in cui la Giunta si impegnava non ad aumentare gli assessori ma anzi a ridurli. Non c'è bisogno ad ora di un settimo assessore anche e soprattutto perché ci sono due assessori ancora in part time, quindi se è vero che forse la Giunta non sta funzionando al meglio e quindi ha bisogno di essere rimescolata e aggiustata è anche vero che adesso il gioco del settimo assessore non può soddisfarci. Il sindaco che non è in grado di prendere decisioni e di portarli avanti perché è tutto un annuncio e poi non tornare indietro. Quindi questa cosa ci spaventa e ci preoccupa perché i problemi della città sono rimasti invariati nel giro di 14 mesi, quindi quando parleremo di sanità, di sociale, di decoro urbano, di turismo e poi non so, la lista è infinita, quindi quando affronteremo questi discorsi? E ora che cosa farà l'opposizione? Noi stiamo valutando l'ipotesi di presentare in Consiglio Comunale una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Seri, ci rendiamo conto che è un atto molto grave, importante che negli ultimi anni non è mai stato fatto, però nello stesso tempo abbiamo la responsabilità di difendere i diritti dei nostri concittadini, quindi se non vediamo la guida della città una persona che riesce almeno a guidare la propria maggioranza bisogna che interveniamo in qualche modo e quindi stiamo valutando proprio queste ipotesi.